Il rapporto tra uomo e donna nel Medioevo. Un'analisi storico-culturale. Esploriamo il contesto amoroso medievale attraverso l'analisi delle figure dell'amante e dell'amato. Il luogo nel quale ci troviamo è la corte di un feudo, un luogo elitario abitato dai nobili, quasi autarchico e separato dal resto della popolazione. La giovane signora fedataria arriva come sposa in un matrimonio non dettato dall'amore, ma dalla convenienza familiare. La sua principale responsabilità è quella di generare eredi maschi, mentre la gestione del feudo è affidata al marito. Il suo tempo libero è dedicato alla gestione domestica, in un contesto culturale permeato dai grandi romanzi medievali, che esaltano un amore passionale, esclusivo ed extraconiugale. Immaginiamo dunque una giovane donna, isolata e priva di contatti reali con l'esterno, tranne che con un marito che però è assorbito dalla politica e dalla guerra. La sua unica via di fuga è l'ideale romantico della letteratura, un mondo in cui può sentirsi amata e amare. Ma c'è un altro personaggio in questa nostra storia, il cavaliere. Un nobile senza feudo né possibilità di un matrimonio legittimo a causa della mancanza di eredità. Il cavaliere incarna il prototipo dell'amore cortese. La libertà di scegliere e chiamare e l'aspirazione ha una nobiltà conquistata attraverso l'investitura amorosa della dama. Adesso non ci resta che unire la dama con il suo cavaliere e lo faremo attraverso le parole di Andrea Cappellano, il chierico che ha scritto il manifesto dell'amore cortese.